Ciao ragazzi, come state? Oggi è lunedì e abbiamo quindi dato inizio alla seconda settimana dell'anno. Ok, shakeriamo un po' il barattolo, vediamo cosa capiterà questa settimana. Questa gialla, così. Apriamola e sono 35 euro. Va bene dai, questa settimana allora metteremo dentro al bellissimo Selva Danaia degli Smile 35 euro. Sono proprio contenta di questa sfida, insomma speriamo di riuscire a portarla a termine e se la fate anche voi insieme a me sono molto contenta. Iscrivetevi giù nei commenti in quante di voi hanno già iniziato a farla col mio metodo, seguendo me o ne hanno fatto uno proprio. Sono proprio curiosa. Bene, ci vediamo il prossimo lunedì. Ciao ciao!